Questo video presenta l'innovazione del Navident che è il protocollo Trace and Place, attraverso questo protocollo invece di lavorare con uno stand radiologico si lavora con la Combeam, la progettazione e quindi il Trace and Place. Partiamo da una Combeam, dalla Combeam come sapete, ricaviamo i file DICOM che vengono poi caricati sul programma Navident. Noi iniziamo con il programma che non legge i due fiduciari del Marche Radio Paco, per cui non ci sono i fiduciari, quindi noi identifichiamo la mascella e la mandibola e poi iniziamo la nostra progettazione. Progettazione che si sviluppa nelle condizioni che conosciamo, che sono quelle di poter identificare una libreria geometrica e non morfologica degli impianti e poi di definire la lunghezza e il diametro dell'impianto che poi si andrà a utilizzare direttamente sul volume osso in riferimento alla corona, quindi al riferimento protocollo esistente, dove noi utilizziamo uno starter kit che è costituito da questo tracker, da questo head tracker, che si sistema dietro le orecchie del paziente e sul naso e poi abbiamo questo tracciatore collegato a un detettore. Questo tracciatore, come vedete, ha una forma puntita, verrà utilizzato proprio per tracciare la superficie dei denti. Quindi iniziamo con la calibrazione del tracciatore. Calibrazione che permette quindi nel momento stesso che viene effettuata poi di poter identificare tre elementi dentali sui quali l'operatore va a identificare per ciascuno di questi elementi 100 punti, 100 punti per ogni elemento dentale, quindi minimo tre elementi dentali. In questo caso l'operatore non va a toccare il dente, ma va proprio a disegnare la superficie del dente sia a livello linguale che a livello vestibolare. Questo, ripeto, per un minimo di tre denti. Quindi in questo caso noi vediamo l'operazione che viene gestita con i numeri che crescono e quindi abbiamo i primi due elementi dentali già mappati con il terzo da mappare. Questo lo vediamo in modo efficace anche da questa immagine che ci fa vedere un flag sui primi due denti mentre una X sul terzo dente. Anche qui si va e si continua, come vediamo anche da questa immagine, con il tracciatore a disegnare la superficie del dente e quindi attraverso questa operazione, una volta finita, noi otteniamo una mesh tridimensionale delle superfici tra i denti che viene matchata con le immagini da ICOM e quindi otteniamo in questo senso un'informazione che ci garantisce sulla precisione delle nostre misurazioni. Qui facciamo con il tracciatore subito una prova di precisione per verificare che l'operazione è andata a buon fine e quindi vediamo che gli elementi dentali vengono toccati e quindi c'è congruenza e quindi in questo senso a questo punto iniziamo con la nostra attività sostanzialmente che è un'attività di calibrazione dell'asse del contrangolo della lunghezza di lavoro della fresa e non solo di questa ma anche come sappiamo appunto con la prova di precisione che segue la calibrazione della lunghezza di lavoro. Prova di precisione che consiste appunto nel toccare un dente adiecente nella zona in cui sembra operare e trovare anche qui congruenza da quello che io vedo e quello che io faccio. Dopodiché l'operazione che viene sviluppata è quella di appunto avvicinarci all'impianto progettato comparirà un target e quindi si seguirà l'asse con una visione indiretta quindi con l'operatore che guarda lo schermo del computer e con un'attività che non è soltanto limitata all'ostitomia ma anche all'inserimento degli impianti perché anche in questo senso appunto l'attività può essere un'attività guidata dinamicamente. Per quanto riguarda invece la mandibola abbiamo un tracciatore di mandibola che viene fissato con un processo di fotopolimerizzazione su un dente disponibile e il processo è esattamente uguale a quello che abbiamo fino adesso presentato. Grazie!